Procedendo a grandi passi nel suo percorso a Capitale della Cultura 2024, Pesaro, città della musica UNESCO, serve sul piatto di inizio 2022 5 mesi di playlist. La variegata rassegna musicale giunta all'ottava edizione che proporrà 11 appuntamenti concentrati in due luoghi, il Teatro Sperimentale e la Chiesa dell'Annunziata. Chiesa dove risuoneranno le prime note il 28 gennaio con il live del pesarese Marter in un programma che prosegue con il gomma più matur di Giorgio Poi, con Black Saga nel sound particolare dell'ensemble degli esecutori di metallo su carta. Dalle nicchie si rimbalza nomi più di massa come Peppe Servillo che assieme a Virgirotto e Natalio Mangalavite proporrà allo Sperimentale il tributo alle canzoni di Lucio Dalla. Un programma che avanza anche con Giancane, fresco della colonna sonora di strappare lungo i bordi del fumettista Zero Calcare che sta spopolando su Netflix e poi ancora la classe artistica di Cristina Donà, i Palazzi d'Oriente, l'omaggio battiato con Andrea Scanzi e Ti Vengo a Cercare, Riff e le Dialo fino alla chiusura internazionale del 7 maggio col canadese Barzin e il suo Wire in the Dark Tour. Questo contenitore che in qualche modo affianca tutte le proposte musicali che la città della musica UNESCO che Pesaro è rappresenta. In questo senso abbiamo sempre voluto tenere insieme l'attenzione ai giovanissimi assieme alle proposte più consolidate nella convinzione che comunque la musica sia capace di parlare a tanti, di parlare a tutti e proprio in questa varietà rendere più chiare le singole proposte. Per questo iniziamo con un giovanissimo pesarese, siamo molto felici perché insomma l'attenzione alla produzione di casa nostra ci interessa molto che è il progetto di Marter e proseguiamo poi appunto col doppio omaggio a Dalla Abattiato, la residenza per il debutto di Giorgio Poi, una stramba rilettura delle vicende rossiniane attraverso quattro campioni dell'Indi che lo rileggono per sintetizzatore elettronico, insomma 12-11 appuntamenti che diparnano una proposta musicale secondo noi di grande fascino, ancora di più in questo tempo in cui la musica ha il compito di essere quell'oasi di tranquillità, di serenità, di riflessione, di emozione in un presente molto incerto. Un cartellone confezionato da Amat in collaborazione con Black Marmalad Records che è stato applaudito anche dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci e sostenuto dal contributo di BPR Banca. Le liste è un'iniziativa molto importante con un calendario di grande rilievo è un'iniziativa che in un momento come questo abbraccia il suo territorio con un'attenzione importante noi sul territorio siamo molto presenti, nell'intera regione Marche abbiamo 127 filiali siamo la banca vicina al territorio e di conseguenza come si fa a non essere partner e unire il proprio brand ad un'iniziativa così di ampio respiro in un contesto nel quale il benessere è utile e un benessere che viene dalla cultura non può che essere veramente un'ottima via d'uscita. Grazie a tutti.